Come sarà questa ripresa? La gente allo stadio è l'essenza del calcio, è tutto quello che conta perché poi lo stadio vuoto mette tristezza e invece quando è pieno è veramente stupendo anche per l'atleta, darsi e giocare per tutta quella gente che comunque viene allo stadio per guardarti. Senti Raffaele una domanda che mi viene d'obbligo perché essendo avellinese tu lì hai lasciato parte del cuore così come i tifosi ti amano e ti stimano ancora, l'Avellino attuale secondo te che futuro ha? Ma io come hai detto tu ho fatto tre anni ad Avellino meravigliosi, intensi perché ogni anno c'era un obiettivo da raggiungere, abbiamo fatto finali storiche, fortunatamente vinte e quindi ho lasciato dei bellissimi ricordi. Ricordo la gente con una passione incredibile e auguro sempre il meglio a quella società perché quella è una società che dovrebbe stare minimo in Serie B, tranquilla a fare i propri campionati e cercare ogni anno magari di tentare di fare un salto in avanti. Purtroppo questo non sta avvenendo adesso ma mi auguro che nel futuro possa diventare una società che faccia almeno Serie B in modo tranquillo.